Non è vero che l'Abruzzo sarebbe diventato arancione il 9 per volontà del governo. Il governo ha detto questo solo quando io ho fatto l'ordinanza. A dirlo è il presidente regionale Marco Marsilio che torna ad attaccare l'esecutivo Conte. Secondo il governatore quindi la zona arancione sarebbe stata anticipata di ben più di 48 ore. Secondo fonti vicine al governo però le cose starebbero in tutt'altra maniera. Quando Marsilio decise di anticipare di due giorni la zona rossa che così entrata in vigore mercoledì 18 novembre ci fu un accordo tra Marsilio e il ministro Speranza in base a cui i famosi 21 giorni per tornare arancioni sarebbero stati contati a partire proprio da mercoledì. Secondo questo calcolo la zona rossa sarebbe scaduta proprio il 9 con una possibile riapertura per il 10 tant'è che anche i commercianti sapevano che la data più papabile per la riapertura era quella del 10 dicembre. Marsilio però nella lettera di risposta quella di diffida giunta da Roma sottolinea che la zona rossa era prevista fino al 20 dicembre ed effettivamente era così. Esiste infatti un'ordinanza del ministero della salute datata 5 dicembre in cui è scritto che all'Abruzzo si applicano le misure dell'articolo 3 dell'ultimo dpcm ovvero la zona rossa e nel testo firmato dal ministro Speranza si dice che l'ordinanza è in vigore dal 6 al 20 dicembre. fermare stando la possibilità si legge ancora nel testo di una nuova classificazione. Il che significa che il testo ministeriale non implica a priori che non sarebbero state possibili riaperture prima del 20 dicembre. Questo sembrerebbe così avallare la possibilità che un accordo tra Roma e l'Aquila esisteva davvero. Tant'è che la scorsa settimana Marsilio aveva dichiarato di aver già ottenuto la promessa da parte di Speranza a riesaminare la questione abruzzese lunedì 7. Domenica sera però è arrivata l'ordinanza regionale fai da te pressoché a sorpresa tramite cui l'Abruzzo ha deciso autonomamente di tornare zona arancione e l'ho fatto come dicono i ministri anticipando di soli due giorni il governo nazionale cioè quando non ci sarebbe stato il tempo necessario al tar una volta impugnata l'ordinanza per annullare la decisione di Marsilio prima che questa sarebbe stata comunque conforme a quanto decretato da Roma. Insomma l'Abruzzo avrebbe agito sì contro le disposizioni nazionali secondo cui le regioni possono applicare misure più restrittive ma non meno severe di quelle imposte dall'esecutivo nazionale ma secondo un calcolo ben studiato la violazione sarebbe avvenuta quando nessuno da Roma si sarebbe potuto opporre. Ciò rivelerebbe una sottile strategia politica che forse scavalca i confini regionali.